Benvenuti a tutti, inizia adesso il nuovo evento di Cuba 1954 in co-marketing con la nuova trebicarra di Varese, la valigeria Ambrosetti che presenterà la nuova collezione di abbigliamento Don'Avventura Prima Classe, Alviero Martini e ovviamente le ragazze che stileranno, oltre ad essere bellissime, sono anche curate da SB Total Look. Vai con la musica! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!